un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori da parte di diego manetti un ben ritrovati sulle frequenze di radio maria in mia compagnia e con padre livio stiamo esaminando cari amici quello che il percorso che lega fatima a meggiugorie nell'omonimo volume edito da pm per intuire quale senso abbia l'espressione il secolo di prova che abbiamo visto compare in diversi messaggi della regina della pace trova conferma nelle profezie di tanti santi e mistici in particolare in quella visione che è stata donata papa leone tredicesimo nel 1884 abbiamo visto la volta scorsa come questa prova sia una sorta di assalto satanico alla chiesa e come aiuto nei confronti di questo attacco in modo particolare in questi ultimi 35 anni la madonna meggiugorie è venuta a portare la sua voce di speranza il suo messaggio di incoraggiamento per tutti i suoi figli possiamo proprio dire come ricordavi padre livio la volta scorsa sono due piani che si oppongono da una parte c'è un secolo in cui lo scatenamento satanico va via via crescendo ma la madonna ha un suo piano per condurre l'umanità a suo figlio quindi alla salvezza quello che vorrei fare oggi è proprio di inserire questo momento questo secolo di prova che va da fatima meggiugorie in un contesto più ampio è un contesto delle apparizioni mariane moderne prima di farlo desidero ricordare ancora una volta il modo in cui ci approcciamo alle apparizioni mariane citando quando quanto l'allora cardinale joseph ratzinger disse a vittorio messori nel libro rapporto sulla fede nessuna apparizione diceva ratzinger è indispensabile alla fede la rivelazione è terminata con gesù cristo egli stesso è la rivelazione ma non possiamo certo impedire a dio di parlare a questo nostro tempo attraverso persone semplici e anche per mezzo di segni straordinari che denunciano l'insufficienza delle culture che ci dominano marchiate di razionalismo e positivismo uno dei segni del nostro tempo è che la segnalazione di apparizioni mariane si stanno moltiplicando nel mondo quindi in quest'ottica che cosa facciamo guardiamo alle apparizioni mariane come a un segno dei nostri tempi e lo facciamo sulla scorta della lettura che jean guitton cattolico accademico di francia ha dato in un bellissimo libro sulle apparizioni della medaglia miracolosa laddove parla proprio di un disegno che tocca le diverse apparizioni mariane moderne da ridubac appunto nel 1830 fino ai giorni nostri allora insieme a te padrivi vorrei proprio vedere questo contesto per vedere di inserirvi il tassello da fatima medjugorje cominciamo dunque con ridubac siamo nel 1830 quattro apparizioni che sono offerte a santa caterina laburè la più importante delle quali è la visione del 27 di novembre quando la veggente ha questa immagine della madonna con i piedi che poggiano sopra un globo o meglio dice caterina sopra un mezzo globo almeno io non ne vidi che una metà ecco in seguito caterina dirà anche di aver visto un serpente di colore verdastro chiazzato di giallo sotto i piedi della vergine in quel momento continua caterina ecco formarsi intorno alla santissima vergine un quadro piuttosto ovale sul quale si leggevano queste parole scritte a lettere d'oro o maria concepita senza peccato pregate per noi che ricorriamo a voi ecco parole padrivio che abbiamo sentito tante volte la medaglia quella miracolosa che chiunque porta in tasca e tuttavia sembra quasi un programma dei due secoli a venire sì intanto vorrei incominciare con citare una frase che mi ha sempre molto colpito di giovanni parlo secondo che non riuscivo a capire lì per lì quando la diceva se la capisco un po' meglio cioè lui parlava di una geografia della fede cos'è la geografia della fede voleva alludere soprattutto ai vari santuari mariani che sono dislocati nel mondo come degli avamposti come dei punti di come dei punti di battaglia no o se vogliamo dei fari luminosi delle osi dove andare a tingere l'acqua cioè in poche parole la madonna con le sue apparizioni ha creato una rete diciamo una rete dove i cristiani possono una rete della sua presenza dove i cristiani possono recarsi per ravvivare la loro fede per ritornare i sacramenti per essere confortati dalla madre per cui noi vediamo che l'Europa è veramente piena di questi santuari mariani costruiti nei 2000 anni di cristianesimo e se tu vedi questi sessuali mariani vedi anche la storia della cristianità perché tutti quei voti quelle cose votive sono una cosa commuovente dove la madonna interviene nella vita quotidiana per il corpo per l'animo per tutto cioè veramente vedi la presenza della madre nella vita dei suoi figli e non vi è dubbio che questa prospettiva che abbiamo visto dello scatenamento delle porte dell'inferno la madonna laddove incominciato questo scatenamento che è proprio la francia e poi in tutta europa ha creato degli avamposti e questa è la geografia della fede degli avamposti per cui anche laddove è imperversato il laicismo più tremendo come in francia per dire con la rivoluzione francese ma anche tuttora noi vediamo per chi va in francia per esempio no io sono stato in francia proprio visitato i santuari mariani sono una cosa meravigliosa cioè prima di tutto sono conservati così com'erano non è come noi in italia che distruggiamo la casa dei veggenti e poi apparsa la madonna eccetera è tutto conservato e sono al centro di pellecrinaggi continui per esempio l'urde non solo l'urde ma per esempio la rue du bac a parigi diceva chan kiton che ha più visitatori del louvre ma chi li conosce io mi ricordo una domenica di pasqua una mattina più vicinosa dove andare a rue du bac ma i sensi unici mi facevano diventare matto avrò chiesto a 40 persone per la strada mattino di pasqua c'era poca gente neri gialli blu che che volevi tu non c'era una che non sapeva cos'era rue du bac e mi dicono tutti lo sapevano magari non ti sapevano mandare a louvre però rue du bac ti sapevano ma è una cosa incredibile cioè questo polmone nel cuore di parigi non è impossibile che parigi diventi prendono un laicismo esasperato no quindi ma anche mi è capitato di andare a diciamo dove è apparso il sacro cuore come si chiama parelmonial una cittadina medievale bellissima non so che giorni sono capelli sono mostrini tre giorni era strapiena di pellegrini tutta la città piena di pellegrini con famiglie bambini era una cosa mai vista cioè questo lo dico perché questa strategia della madonna di disseminare i suoi avamposti dappertutto è fondamentale perché sono i luoghi della battaglia e quindi tu prendi meggiugorie da lì è partito l'attacco regime sovietico e l'ha soppiantato l'ha distrutto e lì satan ha attaccato e la madonna gli ha impedito di far scattare la terza guerra mondiale è una cosa incredibile quindi come la madonna è una condottiera una stratega c'è una strategia della madonna per tenere viva il suo esercito e per affrontare satana la battaglia maria regina della pace maria regina delle vittorie che muove le sue pedine e forma i suoi eserciti nella discrezione e nel silenzio perché la seconda tappa di queste apparizioni mariane moderne dopo la salette che svela come il mondo sia preda di un attacco satanico perché il serpente cerca di avvolgere il globo terrestre con le sue spire ecco che stiamo ancora in francia e siamo alla salette nel 1846 qualcuno potrebbe essere forse invidioso perché ancora una volta la francia è privilegiata ma forse il medico va più spesso a casa di chi più è malato ricordavi prima come la francia è la culla del razionalismo del seicento del libertinismo del materialismo e dell'illuminismo del settecento e alla salette la madonna si presenta anzitutto in lacrime con un messaggio silenzioso malquanto eloquente e poi dice ai due pastorelli se il mio popolo non vuole sottomettersi sono costretta a lasciare libero il braccio di mio figlio esso è così forte e pesante che non posso più sostenerlo e ancora da quanto tempo soffro per voi se voglio che mio figlio non vi abbandoni mi è stato affidato il compito di pregarlo continuamente per voi ecco quindi la salette un contesto così piccolo sulle montagne un posto incantevole livello paesaggistico si presenta massimino e melania ma consegna un messaggio che vale per tutto il mondo e si presenta come con lei che intercede presso suo figlio sì comunque a parte il fatto che la salette tuttora conserva un fascino straordinario perché in cima alle montagne nel silenzio nel raccoglimento chi va la mi ricordo che Andrea Martini diceva per condurre i miei parenti a fare un corso di esercizi spirituali beh fra tutti i santuari maria andrea la salette diceva no perché non c'è posto più 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 accattivante di quello poi la madonna che piange colpisce colpisce tantissimo ti vengono le lacrime agli occhi e comunque noi non abbiamo l'idea ci voglio dire sì la salette sembra un'apparizione regionale perché comunque ha smosso tutto con la parte delle alpi e al di là delle alpi e tutta una regione particolare che ha risposto in un modo commovente perché se la salette è stata la prima apparizione esplicitamente approvata dalla chiesa e per il flusso della gente che andava a confessarsi cioè quel flusso di confessioni ha fatto sì che invece di Grenoble che tuttora è la delizio primariale della della francia no approvasse e desse la sua approvazione totale alla salette però la salette ha avuto sulla francia un'influenza che noi non immaginiamo pensiamo per esempio un intellettuale come leon blu a cos'era per lui la salette per dire che è diventa in francia la salette ha avuto quasi un eco più grande di quella di lourdes la madonna che piange e per fare il riferimento all'oggi no il papa francesco recentemente ha citato i fondatori dell'europa per dire oggi all'europa ritorna ai tuoi fondatori i tuoi ideali ha citato schumann denauro e de gasperi de gasperi l'ho citato io a suo posto l'ho detto perché le gasperi è ugualmente tre cristiani e schumann era stato più di un mese in ritiro alla salette quando scrivevi i documenti dell'europa esatto l'europa cristiana con le 12 stelle è nata alla salette quindi non abbiamo l'idea dell'influsso storico che hanno i santuari mariani ma la madonna lo sa prima è un grande avamposto la salette tutt'oggi un grande avamposto e le sue lacrime sono state riprese da un messaggio di meggiore io verso lacrime di sangue però nel mio figlio che si perde nel peccato restiamo ancora in francia con la tappa successiva a breve distanza di tempo siamo a lourdes dove hanno luogo le 18 apparizioni a bernadette dall 11 febbraio al 16 luglio 1858 lourdes è il santuario più visitato al mondo dopo quello di guadalupe circa 8 milioni di pellegrini all'anno diciamo frequentato da tantissimi di quelli che magari non frequentano la chiesa o la propria parrocchia ma trovano irresistibile il messaggio della madonna che qui si definisce immacolata concezione confermando quanto definito a livello dogmatico da pio nono nel 1854 la madonna consegna poche parole a bernadette tra cui il triplice invito alla penitenza 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 pregherete dio per i peccatori andate a baciare a terra per la conversione dei peccatori e poi nella apparizia del 25 marzo io sono l'immacolata concezione che rapporto c'è padre livio in questo richiamo all'immacolata concezione già rubac si era definita concepita senza peccato perché la madonna sembra quasi che ci tenga a sottolineare questo titolo e questa prerogativa dunque il tema dell'immacolata concezione possiamo dire che è presente in tutte le persone mariane moderne per dire o direttamente o indirettamente è sempre presente dunque per quale motivo perché perché è il tempo in cui la madonna viene per scacciare la testa serpente e lo poteva fare soltanto perché è immacolata cioè cosa vuol dire cosa vuol dire concepita senza peccato originale fin dal primo istante vuol dire che la madonna è mai stata soggetta al peccato originale quindi al potere del male al potere del serpente neanche nel primo istante del concepimento cioè la madonna è l'unica creatura pura creatura gesù cristo non è una pura creatura perché la la natura umana di gesù cristo unito la sua divinità l'io di cristo è divino quindi se noi vogliamo parlare di natura umana solo la madonna fra gli esseri umani è quella che è mai stata sfiorata dal serpente neppure per un istante perché tutti i figli di eva nascono col peccato originale quindi sotto il potere di satana ed è per questo che nel battesimo c'è anche l'esorcismo no quindi questa è la il fatto che il fatto di di proporsi come l'immacolata si propone come con lei che vince il serpente che vince quindi il proclamandosi immacolata la madonna anticipa già la sua lotta e la sua vittoria ecco lei che appunto poroi l'immicizia fratella donna fa la sua stipa la tua stipa di satana la stipa di satana sappiamo chi sono la stipa della madonna sono il cristo e tutti i cristiani ma lei ti schiacciano la stirpe della madonna cioè cristo e i cristiani ti schiacciano la testa cioè si è attraverso di noi che la madonna schiaccia la testa del serpente e questo è importante c'è la madonna immacolata viene e coinvolge noi nella lotta che è comunque vittoriosa cioè proclamandosi immacolata vuol dire la vittoria del serpente da parte non tutti gli esorcisi sanno che appena nomina la madonna satana si scatena in un modo incredibile ridubac la salette l'urde tre apparizioni mariane unificate dal tema dell'immacolata e dalla presentazione di questo piano satanico per cui il demonio cerca di perdere quante più anime possibili richiami che si trovano condensati in quello che è il grande segreto consegnato a fatima la madonna appare sei volte ai tre pastorelli di fatima dal 13 maggio al 13 ottobre 1917 non esaminiamo qui le tre parti del segreto perché lo faremo con abbondanza e dovizie di particolari più avanti nel corso di queste conversazioni ma richiamo brevemente i contenuti la prima parte del segreto riguarda la visione dell'inferno quando la madonna dice ai pastorelli molte anime vanno all'inferno perché non c'è nessuno che prega per loro la seconda parte del segreto riguarda il futuro del mondo riporta lucia quanto la madonna consegna a lei come profezia sul futuro la guerra sta per finire ma se non smetteranno di offendere dio durante il pontificato di pio undicesimo ne comincerà un'altra ancora peggiore se accetteranno le mie richieste la russia si convertirà e avranno pace se no spargerà i suoi errori per il mondo promuovendo guerre persecuzioni alla chiesa finalmente il mio cuore immacolato trionferà e sarà concesso al mondo un periodo di pace infine la terza parte del segreto di fatima che riguarda il combattimento escatologico e le persecuzioni alla chiesa ancora lucia scrive vedemmo un vescovo vestito di bianco abbiamo avuto il presentimento che fosse il santo padre salire una montagna ripida in cima alla quale c'era una grande croce il santo padre giunto alla cima del monte prostrato in ginocchio ai piedi della grande croce venne ucciso da un gruppo di soldati che gli spararono vari colpi di arma da fuoco e frecce ecco ti chiedo almeno un commento nel complesso qui mi pare che si cambi decisamente marcia indicazioni più precise sul piano di satana e profezie molto concrete che abbiamo visto hanno avuto poi riscontro nel corso del novecento dunque sì sì non c'è dubbio che siamo di fronte a una svolta diciamo cioè prima di fatima le apparizioni mariane non so come dire e non rivolte a fortificare la chiesa e non rivolte a risvegliare la fede ma non avevano il tono drammatico che avranno invece quelle di fatima e quelle che vengono dopo fatima perché possiamo fare riferimento anche di bonatti possiamo fare riferimento ad amsterdam cioè a tutto una a tutto un contesto che noi possiamo chiamare quello della modernità insomma e comunque il secolo ultimo secolo del secondo milano l'abbiamo alle spalle non è che sia poi tanto lontano noi siamo tutti nati nel 1900 insomma qui abbiamo le radici nel 1900 no qui veramente cambia cambia tutto cioè qui siamo al momento in cui è stata la sfera l'attacco per distruggere il mondo cioè per fare del mondo una propagine dell'inferno nella quale incendiare la terra stessa e le anime con essa cioè con fatima con fatima la madonna ci descrive è l'opera del drago dell'odio della guerra questa è e quindi la più grande ideologia del male che è stato sicuramente il comunismo in moltissimi ravvino perché il nazismo non è stato citato come sarà madonna il marzismo non è stato citato ma sembra ragione che è durato poco che si è dissolto però mai dimenticare l'apparizione delle ardenne in belgio quelle della madonna di poveri a banne nei luoghi dove dieci anni dopo ci sarebbe stata una grande battaglia delle ardenne dove è stato sconfitto il nazismo perché è lì che è crollato un fronte fondamentale che era il fronte degli occidentali cioè l'iter è stato sconfitto degli occidentali nelle ardenne e lì ha perso il suo potere per cui per cui tra l'altro nell'apparizione delle ardenne quella di banne la madonna dice che è quella fonte che le ha fatto suscitare verano le nazioni a dissetarsi erano gli eserciti di tutte le nazioni che lì andarono passarono di lì a dissetarsi proprio fisicamente spiritualmente quindi voglio dire è diciamo è difficile avere un'apparizione del dopo fatima che non entri in questo contesto della guerra cioè il drago dell'odio della guerra vuol distruggere il mondo e portare con sé le anime all'inferno perché la guerra è il luogo di tutti i mali di tutte le malvagità di tutte le prevaricazioni è qualcosa di infernale e cosa di infernale quindi giustamente tu hai detto qui veramente cambia il tono cioè è cominciata e sono incominciati diciamo così quella produzione di armi di massa che sono terminate con la seconda guerra mondiale con la bomba atomica che hanno continuato dopo con la proliferazione di armi di massa sempre più sofisticate oggi come oggi si stanno rifacendo tutti gli armamenti atomici in chiave più moderna cioè il mondo è diventato come si dice una polveriera che può saltare da un momento all'altro e perché satana vuole mettere fine all'opera della creazione questo è il programma questo è il distintivo da fatima a me giugorie dalla prima alla seconda guerra mondiale alla possibilità di una guerra mondiale e alla possibilità diciamo così di una di un incendio globale che distrugga la terra e la madonna è qui per salvarci da questo mi colpisce il riferimento che fai alla guerra come così cifra caratteristica delle apparizioni dopo fatima perché effettivamente oltre a bannio che citato pensavo anche a buren in belgio che sono cronologicamente collocate all'inizio dell'ascesa al potere di hitler penso anche alle apparizioni di ghiaie di bonate alla fine della seconda guerra mondiale di guerra si parla perché una guerra scatenata contro la vita e contro la famiglia mi venivano in mente le apparizioni di amsterdam aida perdeman dal 1945 al 59 dove a un certo punto la signora di tutti i popoli dice il mondo geme sotto il gioco di satana quindi una guerra globale e poi pensavo a kite in giappone quando in realtà ci sono alcune visioni forse simboliche della veggente che però paiono concretamente esprimere l'incubo e il pericolo di una catastrofe nucleare e arriviamo infine a quelle di kibeho dal 1981 al 1989 riconosciute nel 2001 dalla chiesa su queste ti chiedo un piccolo commento avviandoci verso la la conclusione nell'82 la madonna dice alle tre veggenti satana non si attacca a chi non sia un vero cristiano e non ami e gli infuria contro di voi perché si rende conto che nella comunità ci sono molti che mi amano ma non abbiate paura perché io sono con voi per proteggervi e ancora in quello stesso 1982 dice se ora vengo a kibeho in ruanda non significa che vengo solo per kibeho o per l'africa mi rivolgo al mondo intero e poi arriviamo all'apparizione forse più importante drammatica quella del 15 agosto 1982 dove la vergine dei dolori dirà se piango è perché voi uomini siete in uno stato così critico che non posso più trattenere le lacrime per voi che cosa aspettano non si rendono conto che il tempo si fa breve ed ecco che dopo queste parole la veggente ha una visione di un mare di sangue di un'ecatombe e successivamente riconoscerà essere una visione profetica di quel genocidio che nel 1994 produrrà oltre un milione di vittime nello scontro fra utu e tuzzi quindi ti chiedo è un po come se la madonna avesse dopo fatima preso il mondo per mano stabilendo quelli che sono i confini di questa guerra il pianeta il mondo la chiesa la famiglia la pace arrivando fino a kibeho quando incomincia quella grande avventura di apparizioni mariane che tutt'oggi continua cioè mezzugorie cioè non c'è dubbio che l'apparizione kibeho è a chita e si confonde dall'europa e che sta a indicare che è proprio il mondo stesso che è in pericolo per quanto riguarda kibeho vorrei dire che la madonna ha un occhio speciale sul continente africano sì la madonna parla tutto il mondo ma non bisogna dimenticare che l'africa sta guardando pericoli in mani che sono le guerre etniche le guerre etniche che stanno distruggendo l'africa in pari in pratica è difficile trovare un paese africano che abbia un equilibrio politico ma c'è qualcosa di peggio e cioè che pochi conoscono la realtà dell'africa da questo punto di vista cioè in africa c'è un islam nero che che è presente in tutti i paesi dell'africa per cui l'africa è un continente dove cristiani musulmani convivono in percentuali diverse alcuni paesi più musulmani in altri paesi più cristiani ma ma tu capisci bene che un islam diciamo così che cedesse alle seduzioni del fondamentalismo islamico potrebbe portare l'africa in un bagno di sangue quello che si vede con boko a ramo al shabab è indicativo di quello che potrebbe accadere ma quello che potrebbe accadere tutto sul sahara nei prossimi anni e sta accadendo cioè la diffusione fondamentalismo islamico che comunque un pericolo di non poco conto potrebbe portare l'africa un bagno di sangue tremendo e poi comunque il fatto perché la mondo si appassa in giappone è ben strano è ben strano giappone erano la terza guerra mondiale erano la seconda guerra mondiale cioè voglio dire il giappone è un paese che non ha le armi atomiche però ce l'ha la cina cioè voglio dire che il fatto che la madonna sia apparsa da chi ti ha parlato della possibile distruzione del mondo ci deve far riflettere cioè il pericolo è globale io ero un po orientato e sono tutt'ora orientato a vedere la testa del serpente in europa ma la verità è che la testa del serpente su tutto il mondo cioè tutto il mondo è in pericolo è in pericolo da parte ora come ora vediamo che l'epicentro della guerra in medio oriente c'è quindi comunque il terrorismo è globale oggi oggi il terrorismo è globale io insisto su questa tematica della guerra perché la madonna è apparsa maggiormente come regina della pace mai dimenticare questo fatto allora è attraverso la guerra che sa da vuole portare l'anima di farlo distruggere il mondo ecco perché dunque è su questo è su questo versante dove a mio parere dobbiamo vedere più gravi pericoli che incomodano sull'umanità facciamo allora appello ancora una volta alle esortazioni di maria che ci invita a confidare lei che regina della pace per guardare comunque sempre con speranza al futuro che ci sta dinnanzi un cordiale saluto a tutti da parte di di diego manetti e da me padre livio grazie a tutti